Ti dà il salutatore, io sono il salutatore, tu sei un grande massimo, ti chiedo un saluto a tutti i tuoi fan che ti seguono da te. Saluto il salutatore che avevo già salutato. Ecco qua, io ti chiedo, ho la sorpresa per te, aspetta, ho la sorpresa per te, la manina del salutatore non può manchiare, così salutiamo tutti quanti. E' geniale il salutatore, ciao. Ti ringrazio e incordiamo tutti quanti un'ora di tranquillità, alla sala Umberto, ancora per una settimana. Ecco, sono mancati, grazie, questa è tua. Grande infatti, ciao.